Ben arrivata piccola mia. Con queste parole, meno di due mesi fa, Stefano Sanna esprimeva sui social tutta la sua felicità per l'acquisto dell'auto nuova. Rispondeva mandando baci alla zia Ottavia che gli faceva i complimenti per la macchina e gli raccomandava di essere prudente. Ma la prudenza a Stefano, ventottenne operaio nel caseificio di famiglia a Badesse nel senese, non è bastata. È rimasto ucciso la scorsa notte nello scontro con un'auto che ha imboccato contro mano il raccordo autostradale tra Siena e Firenze, alla guida un trentenne romeno che nel sangue aveva un tasso alcolemico superiore al limite di legge. Per questo la procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e mentre il trentenne ora sotto accusa ha riportato solo qualche ferita nell'incidente, per Stefano non c'è stato nulla da fare è morto sul colpo. Lo schianto è avvenuto all'altezza di molte regioni tra l'uscita Siena Nord e quella di Badesse. Il ventottenne che nell'azienda agricola di famiglia si occupava degli animali e aiutava a produrre il formaggio stava rientrando a casa dopo aver accompagnato la fidanzata.